Buongiorno, oggi parliamo con la senatrice Ella Bucalo, senatrice perché è entrata a far parte del Senato, lei in questi cinque anni è stata deputato della Camera per Fratelli d'Italia, adesso è senatrice sempre per Fratelli d'Italia, ovviamente è stata eletta nel collegio della Sicilia occidentale dove Fratelli d'Italia ha ottenuto un risultato non altissimo come quello a livello nazionale ma comunque più che sufficiente per essere fra i primi partiti di quel collegio. Ecco quindi fatta questa rapida premessa io direi entriamo subito nel merito dei problemi che sono tanti che nella scuola dovranno essere affrontati già diciamo da subito, non ci sarà da aspettare molto perché i problemi sono tanti e sono anche molto importanti. Come lei sa uno dei temi di cui si sta discutendo proprio in queste ore è quello che riguarda il contratto di più di un milione di dipendenti della scuola. La trattativa all'Aran sta andando un po' a rilento perché i sindacati lamentano la carenza di risorse. Lei su questo tema si era espressa già durante la campagna elettorale, aveva dato una sua ipotesi di soluzione a questo tema. Qual è questa soluzione e ritiene che davvero sia praticabile? Intanto io la ringrazio dell'invito, una buona serata e colgo subito l'occasione per ribadire che la mia ipotesi resta sempre, è quella di sbloccare i 300 milioni di euro previsti nel MOF, che è possibile che ci sia con questa somma la possibilità di avere al tavolo una concertazione con i sindacati e quindi un aumento adeguato per il mondo della scuola. Senta senatrice, lei però se non ricordo male in campagna elettorale parlava anche della possibilità di fare riferimento ai fondi del PNRR proprio per il contratto. Ricordo bene o è un mio sbaglio? No, no, ricorda benissimo. Allora, una PNRR che non investa anche nelle risorse e soprattutto nelle risorse umane è monco, quindi noi abbiamo l'obiettivo quello di una revisione del PNRR e una possibilità di avere e verificare se è possibile sganciare qualche particolare somma del PNRR e che vada indirizzata a quelle che sono le risorse umane. Senta senatrice, però storicamente l'Europa ha sempre detto che i soldi di questi finanziamenti non possono andare per le spese di personale anche perché c'è un problema proprio contabile. Questi soldi sono a termine, cioè i soldi del PNRR sono a termine, durano due, tre, quattro, cinque anni e se questi soldi li usiamo per gli stipendi quando è finito l'effetto PNRR poi comunque quei soldi andrebbero in ogni caso recuperati da qualche altra parte. Quindi come pensa di risolverlo questo tema? Guardi, io parto sempre da un presupposto che nell'ultimo riunione che si è avuta, più che riunione, chiamiamola riunione al Senato quando c'è stato quel famoso articolo 38 imputato del docente esperto. E allora lei, io le pongo una domanda, ma com'è possibile che nel PNRR siano previsti questi soldi che non sono per investimenti ma bensì per creare questa famosa figura di esperto che siede su un piedistallo che non fa nient'altro che esercitare, credo, tra le virgolette sono convinte il mestiere più bello del mondo che è quello della docenza, non ha incarichi aggiuntivi e viene aumentato il suo compenso rispetto invece a tantissimi altri docenti e viene giustificato dal governo che lo voleva, anzi le parole utilizzate sono state che questo articolo è stato scritto sotto dettatura da parte della comunità. Senta senatrice, quindi se ben capisco una delle prime azioni che voi farete è anche quella di mettere mano a questo famoso articolo 38? Beh, io direi che l'articolo 38 è veramente uno schiaffo a tutta la dignità del mondo della scuola, a tutta la dignità di tantissimi docenti. Non è possibile giustificarlo con il fatto ce lo chiede l'Europa. L'Europa, io sono convinta che non ci chiede di creare una figura che sia discriminante per tutto il mondo della scuola. Senta senatrice, però su questo tema del merito e che si porta presso anche alla questione della carriera dei docenti, lei è sicura che troverete come dire un accordo e troverete un momento di condivisione con i vostri alleati? Mi riferisco in particolare a Forza Italia che forse su questo tema magari è su un'altra posizione rispetto a quella che lei ha espresso. Mi sbaglio o no? Io invece dico questo, che quando ci si siete andate poi ad un tavolo con grande serietà e con una prospettiva che è quella che finalmente il centrodestra ha la forza di poter dare delle risposte serie, alla fine poi si possono smussare gli angoli, si può ragionare in maniera sinergica e soprattutto mi creda. Lo sa qual è la formula magica per risolvere i problemi? Ascoltare chi i problemi li subisce e li vive ogni giorno. E allora ascoltando un pochino il mondo della scuola che è stato totalmente abbandonato, la loro voce è stata totalmente abbandonata, si sono fatti degli interventi senza ascoltarli e allora incominciamo ad ascoltare un pochino. No però la mia domanda non è tanto riferita al mondo della scuola, la mia domanda è voi pensate che sul tema delle carriere, della carriera dei docenti ci potrà essere accordo con Forza Italia? Mi sembra che abbiate posizioni un po' diverse, almeno da come lei l'ha espressa in questo momento, poi magari appunto discutendo, parlando può darsi di no, ecco. Io dico, ribadisco, io sono fiduciosa, cioè nel senso che nel momento in cui è logico che ci sono in alcuni punti che non è soltanto la carriera del docente ma ci saranno tanti altri punti in altri settori dove si portano delle stanze diciamo un pochino diverse, un pochino distanti, ma sedersi, ribadisco, ad un tavolo e parlare seriamente per risolvere il problema. Io sono fiduciosa che una soluzione condivisa si possa trovare. Bene, senta, veniamo ad un altro tema che lei ha affrontato anche durante la sua campagna elettorale. In un paio di circostanze, su questo lei è stata anche abbastanza secca e ha detto l'invalsi è uno spreco incredibile di denaro pubblico e quindi l'invalsi va chiuso, va abolito o quantomeno vanno abolite le prove invalsi. Lo conferma? Sì, senza dubbio, senza dubbio. Questo sono un punto che io non transisco, però una valutazione va fatta, ma che sia fatta da un ente esterno dove non tolgo assolutamente la valenza, attenzione, perché mi è stato anche attribuito la colpa che l'invalsi non sia di entrare nel merito della valenza, dell'invalsi. Non è questo. Io entro semplicemente come il pensiero del buon padre di famiglia, lo ribadisco sempre. Se noi, il buon padre di famiglia, affronta un momento che è particolare per la propria famiglia, cerca sempre di andare a diminuire le spese che può diminuire, e allora senza entrare nella valenza, nella professionalità dell'invalsi, dico che la valutazione può essere anche fatta all'interno del ministero e non ci costa così tanti milioni di euro dove noi possiamo andarle a investire invece a risolvere dei problemi della scuola. Senza, ribadisco, non è un attacco all'invalsi quanto invalsi. Veniamo ad un altro tema molto importante, se n'è discusso, se n'è dibattuto per cinque anni nella legislatura che sta finendo in queste ore, in questi giorni, ma concretamente grandi risultati non li abbiamo visti. Il tema delle cosiddette classi pollaio. Che cosa lei pensa che si debba, si possa fare per affrontare il problema delle classi numerose che purtroppo ci sono e però sono anche a fianco, non a fianco, comunque sono insieme ad altri fenomeni come quelli delle scuole dove non si riescono neppure a formare le classi prime perché a causa del decremento demografico ci sono problemi molto seri in questo senso. Quindi abbiamo un po' questa contraddizione, classi pollaio da un lato e dall'altro difficoltà a formare le classi perché il calo demografico morde. Lei come pensa che si possa affrontare questo tema? E allora io farei una distinzione, biografica soprattutto, dove io giro molto sul territorio e non sono in una stanza chiusa a fare, puoi elaborare degli interventi. Le classi con piccoli alunni noi li troviamo soprattutto in piccoli comuni, nelle isole. Chiudere quelle classi, mi perdoni, è come far morire un comune. Ecco, abbiamo capito per quanto riguarda le piccole scuole, per le classi pollaio invece che cosa lei pensa che si possa e si debba fare? Intervenire, intervenire un unico intervento strutturale, tutto il resto sono solo chiacchiere, organico, cioè il rapporto che c'è tra il docente, personale ATA, anche perché il rapporto è anche questo, e gli alunni. Quindi se tu vai a diminuire la percentuale, scusatemi, la percentuale che c'è tra il numero degli alunni e l'organico docente, quindi anche del personale ATA, tu puoi diminuire le classi pollaio. Questo come lo si fa? Lo si fa con gli investimenti, è logico, è normale, cioè la formula matematica diminuisce il rapporto degli alunni, è facile farlo sulla carta, beh, io l'ho fatto con tutti gli emendamenti, guardi, in tutti i provvedimenti che sono arrivati alla Camera, esclusi gli ultimi provvedimenti dove non avevamo neanche la possibilità di presentare gli emendamenti che venivano subito cassati perché c'era la fiducia, c'era sempre, attenzione, dobbiamo intervenire. Anche lì nel PNRR ci può essere una risorsa negli organici, negli organici, che è importantissima, cioè è inutile che noi andiamo a dire l'unica soluzione è, beh, l'Italia non fa più figli, quindi da qui a 5-6 anni diminuiamo e tagliamo le classi. Questo, mi creda, mi creda, vuol dire che da qui a 5 anni l'Italia sarà sempre più vecchia e sarà destinata a morire. Senta, mi permetta di concludere con una domanda a metà fra il politico e il personale. Nel web, sui social si fa spesso il suo nome, lei viene anche indicata come una possibile futura sottosegretario, qualcuno azzarda anche qualche cosa di più, ma insomma non diciamolo troppo forte perché magari poi sono cose che, come si dice, portano un po' male, quindi lasciamo stare, ma ecco se le fosse offerto, se le sarà offerto di fare il sottosegretario all'istruzione, lei si sentirebbe pronta, si sentirebbe preparata, lo farebbe con piacere, con interesse? Pensa di potercela fare se dovessero offrirle questa opportunità? Guardi, io dico sempre, io sono qui, il mio partito sa che sono qui, che lavoro dalla mattina alla sera, che studio, che affronto qualunque tipo di tematica, io sono con il mio partito. Certo, va bene, quindi se il suo partito glielo dovesse chiedere, lei risponderà obbedisco, insomma, va bene, non ho mai chiaro, nessun problema. Senta, senatrice, ovviamente anche a nome della redazione di tecnica della scuola io le faccio i migliori complimenti per il suo successo elettorale e ovviamente le faccio anche gli auguri per il suo lavoro a partire poi dalla metà di ottobre perché è a quel punto che le camere verranno convocate e dopodiché magari potrà essere che ci rivedremo ancora, magari lei potrebbe essere intervistata da me, io mi auguro in un ruolo diverso e lo vedremo fra qualche settimana. Per intanto, ripeto, ancora grazie della sua gentilezza, della sua disponibilità e complimenti e auguri. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.